Siamo con Mr. Biossi e il suo staff ancora un'altra partita durissima una vittoria importantissima perché vi proietta ipoteticamente se nella prossima valida dovesse fare un punto siete salvi diretti Beh assolutamente l'importante era oggi, ora i calcoli li facciamo quando vedo i risultati degli altri che non ho ancora visto, però devo fare i complimenti ai miei collaboratori perché sono sempre sul pezzo sempre, sempre, sempre anche quando io mi incazzo durante l'allenamento impazzisco anche durante la partita loro sono lì a tenermi calmo a dirmi magari quello che devo fare perché in certi momenti veramente parto 10 anni di vita ogni partita quindi ne ho 53 e sono quasi andato Sei già morto No, grandi ragazzi oggi non abbiamo fatto una grande partita calcisticamente parlando ma ce la siamo meritata contro una buonissima squadra perché ha fatto una buonissima partita hanno avuto le loro occasioni non le hanno sfruttate, noi potevamo fare meglio ma la posta in palio era talmente alta che un po' di nervosismo ci ha condizionato ora testa a Campobarone possiamo permetterci di passi falsi assolutamente grazie mister ciao grazie 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 a tutti